ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video in questo nuovo video abbiamo di nuovo un ospite speciale che me l'avete tanto richiesta soprattutto su messenger mi avete detto avete un rapporto bellissimo ed è qui tornate insieme a noi la mia nipotina bianca e anche cosa facciamo oggi? facciamo dolce al cacao qui abbiamo la ricetta allora che cosa ci serve? ci serve metà bicchiere di olio di semi prepariamo la bicchiera di lievito tre uova cacao 300 grammi di farina un pizzico di sale e basta e lo zucchero che abbiamo già messo e lo zucchero anche questo 300 grammi e il latte 180 ml di latte allora e mischiamo tutto insieme in questa ricetta si può mettere anche i colori yogurt ma noi lo stabbiamo uguale si può fare sia colori yogurt che senza è buono uguale giusto? adesso passiamo di quella natura cosa cominciamo? ovviamente la zucchera c'è un uova tre uova ci siamo spattaccate andami un po' che lo metto via oddio che è successo? poi aggiungiamo 100 ml di latte mezzo bicchiere di olio di semi un pizzico di sale mettiamo in lievita cosa andiamo a fare adesso? adesso andiamo a mescolare mescolare tutto insieme? ah la farina? no quella anche dopo prima mescoliamo amore come vedete è più brava di me bravissima la nostra piccola cuoca fatela fare anche ai vostri bambini proveremo prima il cacao o la farina? io non la farina mettiamo un po' alla volta la farina vai gira bianca che te la metto un po' alla volta mi raccomando fatene queste cose con i vostri figli con i vostri nipoti sono esperienze che a loro rimangono a volte si litiga però a volte ci si diverte anche vero bianca? bianca che consiglio vorresti a dei ragazzini come te di farle queste cose? si perché sono divertenti al posto di stare altri ecco qua guardate un po' come sta diventando il dolce ecco io gli svuoto la farina adesso bene e poi le aiuto ad aggiungere il cacao poi mi dirà lei quanto cacao vuole perché poi questo dolce lo mangia tutto lei ok giusto? abbiamo messo l'ultimo? si ma tu che non l'abbiamo messo all'inizio aspetta però a bianca piace la crema così vai quanto cacao? basta basta e il cacao messo mano a mano giusto? mettete a vostro piacimento nel frattempo che bianca sta facendo questo lavoro io vado a scaldare il forno a 180 gradi per 25 minuti si intanto lo scaldiamo poi lo mettiamo per 30, 25, 30 minuti ok credo sia perfetto e il forno va ventilato è importante specificarlo abbiamo messo molto cacao abbiamo ice oh 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 molto buono ok io lo so ok bianca intanto che noi aspettiamo che il forno si stanti che cosa prepariamo? la padella per... e ci mettiamo la carta da forno che te l'ado assoluto se ce l'abbiamo questa è il frigo questa è il frigo questa è il frigo questa è il frigo la carta da forno ecco bianca vai metti la carta da forno che ci serve diventa la carta da forno e mano in mano aggiungiamo anche il dolce ok vado a mangiare mettilo lì perché lei lo mangia ti aiuta? tu ti raggiungo con la la spatola e lo tieni? e metto più in qua perché ho paura che va di sopra la parte sbagliata c'è anche il cucchiaio se sai più comodo con il cucchiaio scusate se siamo concentrate siamo concentrate siamo concentrate a non fare andare il dolce fuori giusto? ok adesso bianca farà una cosa si abbasserà e con il cucchiaio vi farà vedere cosa fa sempre lei si basta più vai vedere un po' i nostri zia ma sta crollando tutto sono una pasticciona vai guardate che pasticcia ne ha sborgato tutto abbiamo fatto un po' il pasticcio no lo sono controverete bianca cosa facciamo adesso? adesso lo inforniamo noi forniamo a quanti gradi? 130 180 180 minuti 25 30 noi mettiamo 25 e se poi deve essere più minuti lo rimettiamo dentro ok guarda è finito questo video e adesso bianca ci fa vedere come è venuto il risultato della torta al cacao eccolo qua eccolo qua per i tre iscritti che ancora non ci sono ancora mancano un po' ma noi già l'abbiamo fatto il video e mi raccomando se sarà già 30 speriamo speriamo che siano 30 risultati quando lo pubblicheremo mi raccomando iscrivetevi e e birchina e lasciate tanti like e commentate che altro video potete vedere insieme a bianca al prossimo video ciao ciao io voglio e e cosa è il mio che è il mio che è il mio errore non è il mio com'è bianca? buona no 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 no